400 turisti sono rimasti bloccati alle isole Tremiti ieri a causa della perturbazione che ha interrotto i collegamenti tra Termoli e l'Arcipelago. I turisti sono stati costretti a passare la notte in alloggi di fortuna, messi a disposizione sia dal municipio che dai residenti delle isole. Fortunatamente questa mattina i collegamenti con le Tremiti sono stati ripristinati e diversi turisti hanno fatto ritorno a casa. L'improvvisa perturbazione che si è abbattuta nel primo pomeriggio di ieri ha creato non pochi problemi, diversi disagi subiti dai tantissimi turisti che avevano deciso di passare una vacanza alle isole Tremiti. Il maltempo che si è abbattuto anche sull'Arcipelago ha impedito i collegamenti navali tra Termoli e Tremiti. Molte le persone che hanno trovato riparo nella cattedrale, nei locali messi a disposizione dal municipio, nelle ultime stanze degli alberghi rimaste libere e nelle case di alcuni residenti che hanno messo a disposizione le proprie abitazioni.